La legge ha per titolo misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima. Ha la caratteristica di essere una legge d'iniziativa popolare, cioè ha bisogno delle firme valide di almeno 50.000 cittadini ed è stata predisposta dall'Italia dei Valori. Ogni cittadino può depositare la sua firma entro il 26 maggio nel comune della sua residenza e permettere così, come è da dettato costituzionale, di presentare il progetto di legge ai presidenti di Camera e Senato perché sia discusso e votato in Parlamento. Ne parliamo con Aldo Di Giacomo, responsabile nazionale del comparto sicurezza dell'Italia dei Valori. La legge sta andando benissimo, siamo arrivati a oltre un milione di firme. In sintesi la legge prevede che chi fa la violazione di domicilio, chi entra in casa di un'altra persona con l'intento di fargli del male, deve sapere che corre il rischio che si prenda un colpo in testa. E questo evidentemente non la penso solo io così, ma la pensano anche un milione di persone che hanno messo la firma, ma tantissime altre che lo faranno nei prossimi giorni. Ricordo che è possibile firmare in tutti i comuni d'Italia, proprio in tutti, entro il 26 di maggio. Fatto questo, le 50.000 firme necessarie sono state raggiunte, ci sarà la discussione in Camera e Senato per capire se c'è una fattibilità poi concreta di metterla in atto, di farla vedere, di vendere una legge. Su questo sto facendo un sacco di proiezioni e io immagino, c'è già in ITER alla Camera una legge similare del PD, penso che riusciremo entro la fine dell'estate a avere delle risposte concrete. Per raggiungere un numero così grande di firme, io non ho una struttura capillare come la può avere un'organizzazione politica grande, non come la nostra, perché noi abbiamo un'organizzazione medio-piccola, voglio dire, è un successo veramente enorme che, ripeto, nasce proprio dalle esigenze. Io giro i territori del nord-est, dal nord-est a Napoli, verso Cilio e Sardegna, e questa era un'istanza che in continuazione, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, mi proveniva da tutti, 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 sono stanchi di sentire per televisione che il povero Cristo che entra, gli si vede entrare un delinquente dentro casa, purtroppo con un fine drammatico, è costretto a pagare 350 mila euro. I cittadini non lo vogliono. La politica deve fare quello che i cittadini vogliono, per questo io mi sento di dire che in questa battaglia, come le altre che ho fatto in modo molto deciso, metterò in campo tutte le iniziative possibili per non tradire la fiducia di un milione di italiani.